Danilo, l'islandica ti ha sorpresato oggi? No, non ci ha sorpresato perché vediamo il gioco che hanno giocato contro la Germania e sappiamo che è una squadra particolare, quindi non ci ha sorpresato e sono piaciuto che abbiamo potuto vincere il gioco, anche se non abbiamo giocato il nostro bianco. Prima il gioco, quali era la più preoccupazione dell'islandica? Il gioco, il gioco, il gioco e il gioco, i tre punti, si chiamano più tre punti di due punti quindi questa era la nostra preoccupazione e non abbiamo fatto un buon lavoro al principio ma in fine abbiamo giocato una migliore difesa sui tre punti. Per l'Italia, ovviamente, dovete giocare meglio se potete vincere i grandi team? Sì, per sicuramente, dovete giocare meglio, ma è importante per la scuola di oggi e ci sarà meglio il prossimo gioco. Grazie.